È stata una bella vittoria, molto utile per la squadra, per il morale, per il clima che cercavamo, che purtroppo mancava da troppo tempo e sono contento anche per quello che è stato il contributo per il rigore parato perché poi ha permesso alla squadra di fare una partita diversa e poi portare a casa i tre punti. Innanzitutto volevo ringraziare anche quello che è stato il supporto dei tifosi, non è da tutti venire lunedì pomeriggio, dopo tutto bene o male questa strada che c'è da fare, venire a supportarci e fare il sold out del settore ospiti, quindi è stato come dico sempre un supporto, un uomo in più e quello ovviamente ci ha aiutato a portare a casa questi punti pesanti e quei secondi lì sono stati secondi abbastanza pesanti, in questi casi forse sono più pesanti per quello che calce che per quello che parla, però alla fine è andata bene così. Alla fine noi dobbiamo guardare soltanto noi stessi, dobbiamo guardare quello che è partita dopo partita. A vincere aiuta, come ho detto prima, per il morale, aiuta ad avere magari quella sensazione di consapevolezza dei propri mezzi perché dobbiamo e possiamo fare meglio sotto tanti punti e quindi spero e mi auguro che ci possa fare soltanto del bene.